La squadra mobile di Torino ha concluso le indagini a carico di alcuni spacciatori di cocaina destinati al mercato di Corso Principe e Done, Via Livorno e Piazza Baldissera. L'investigatore ha scovato un alloggio occupato da un uomo e una donna, entrambi stranieri, al secondo piano dello stabile di Via Sassari. Gli agenti della quarta sezione criminalità diffusa, Pattulli e Falco, hanno perquisito l'abitazione dei due trovando tre buste sottovuote in nylon trasparenti con all'interno oltre un chilo di cocaina e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente sottovuoto. All'interno di un cassetto è stata inoltre trovata la somma in contanti di 83.450 euro, in banconote di vario taglio sequestrata insieme alla droga. I due pusher di medio livello erano pronti a rifornire il mercato gestito dalla criminalità sinegalese. La droga sequestrata avrebbe fruttato loro circa 650.000 euro al dettaglio e la somma rinvenuta nell'appartamento, verosimilmente destinata all'acquisto di altra sostanza, e indici della potenzialità offensiva dei due arrestati. L'operazione si colloca nel contesto della strategia di contrasto al traffico di stupefacenti voluta dall'acquistore di Torino, volta a monitorare tutti i livelli della catena di spaccio ricostruendone la filiera. Grazie. Grazie. Grazie.